Radio Radicale, siamo con Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera fino al giugno o dicembre 2020, questo lo vedremo, per parlare della situazione politica. Allora, che cosa ne pensa oggi della scena che ha fatto Di Maio dopo l'incontro con Conte? Ma potrebbe tranquillamente essere delle solite sceneggiate fatte per far sembrare alla base che si ottengono chissà che cosa. C'è una situazione che in questo momento scontenta tutti alla base e vorrei vedere che non fosse così e che risulterà secondo me mortale soprattutto per il Movimento 5 Stelle ma in una certa misura anche per il Partito Democratico. una delle maniere per far sembrare più digeribile è sembrare che si sia combattuto aspramente per ottenere chissà quali concessioni che poi ovviamente non arriveranno. Per cui no, io penso che le motivazioni di base che sono sotto questo esperimento sono tutt'altro che programmatiche, sono legate esclusivamente a una cosa molto più prosaica che è la sedia, unita a una volontà molto forte da parte di poteri fortissimi, come avete visto, che fa un capo a Conte, quindi non al Movimento 5 Stelle o ai singoli deputati. I singoli deputati con il loro desiderio di stipendio stanno semplicemente fornendo un involontario appoggio a poteri fortissimi, quegli stessi che hanno sempre detto di voler combattere e così via. Sono contraddizioni che tutti vedono, finiranno male e tentativi di far vedere così grandi trattative in modo tale da ottenere chissà che cosa, in realtà poco hanno a che vedere con quello che sono le reali motivazioni, perché abbiamo visto che le motivazioni non sono programmatiche. Fino adesso il Governo era partito senza neanche parlare dei programmi. Secondo lei Conte ha scavalcato Di Maio? Beh, è evidente, scusate, c'è a un certo punto uno viene confermato Presidente del Consiglio e oltretutto non garante di un contratto, ma con pieni poteri. Già parla di prendersi Chieppa come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e di decidere lui ministri. E' logico, lo fa forte, di questi appoggi fortissimi, internazionali e non, che contano sul suo nome per spegnere una stagione di cambiamento che poteva iniziare. E quindi è evidente che vince lui e perde Di Maio, ma perde tutto il Movimento 5 Stelle, che si trova partito con intenti rivoluzionari, si trova ad essere guardiano dei poteri forti, insomma, fa un po' ridere. Stata Conte ha detto che lui vuole che gli italiani paghino le tasse. Considerando che la cassa per la prossima legge di bilancio, insomma, l'avete fatta voi con la pace fiscale, pensa che troveranno delle difficoltà per eberire gli altri soldi? Vede, io ho un metodo per capire se una cosa che viene detta è una cazzata oppure se è un qualcosa di serio. Bisogna dire l'opposto. Se l'opposto di quella cosa che viene detta è una cosa che ha un senso, allora significa che c'è una scelta politica su cui si può discutere. Esempio famoso, quello per cui mi inseguite sempre da secoli, no? Uscire dall'euro. Allora, uscire dall'euro o rimanere nell'euro sono una questione di una scelta politica. Sono due alternative che uno può essere d'accordo o non d'accordo, ma si può discutere. Se uno dice che gli italiani paghino le tasse o chi per esso lo gira all'opposto e dice voglio che gli italiani non paghino le tasse, evidentemente è una cazzata. Stessa roba su certi punti che sono stati tirati fuori, tipo voglio dimezzare i risultati, i tempi dei processi. Un punto programmatico può essere che voglio raddoppiare i tempi dei processi. Oppure la giustizia è iniqua. Punto programmatico è una giustizia iniqua. Quindi evidentemente quando uno dice queste cose qua sono cose che non vogliono dire assolutamente nulla e che vengono dette così per ammantare di un senso dei discorsi che al momento, ripeto, di programmatico non hanno nulla. Le concessioni autostradali si ritirano ai Benetton? Sì o no? È d'accordo il PD a ritirare le concessioni autostradali ai Benetton? Parliamo di queste cose qua. La Daria l'Italia? Loro, le riserve aure, così adesso non c'è più neanche la scusa perché quando io dicevo che bisognava stabilire, c'è la mia legge calendarizzata per settembre, quando io dicevo che le riserve aure devono essere, deve essere chiarito che sono dei cittadini italiani, il PD mi attaccava dicendo lo vuol fare perché le vuol vendere. Bene, adesso che ci sono loro al governo e questo rischio non c'è, vogliamo approvare la legge che dice che le riserve aure sono dello Stato e non di Banca d'Italia, oppure no, legge firmata, portata avanti anche dai Cinque Stelle. Anche dai Fratelli d'Italia? Sì, certo, assolutamente. Questi sono i punti dove si deve discutere, altrimenti il fisco equo, i tempi dei processi brevi e questo tipo, acqua freschissima. Senta, gli volevo chiedere una cosa un po' delicata, qualcuno le ha detto, diceva ma adesso tu resti Presidente della Commissione del bilancio, ha avuto qualche avviso e poi insomma pensa che verrà anticipato il tempo al giugno del 2020 quando ci sarà il ricambio? Ma io sinceramente chi ha detto queste cose è un'analfabeta costituzionale perché il Parlamento del Parlamento e il governo è un altro. Se dovessero cambiare tutte le cariche parlamentari ogni volta che cambia un governo, apriti cielo, ce ne sono stati tanti di governi e mi risulta che invece il Parlamento abbia seguito delle sue tempistiche. Allora dovremmo far dimettere anche i Presidenti delle Camere, non so, tanto per dire se cambiano le maggioranze. Pensi un po' che il primo voto che ho dato è stato a fico, cioè non è che me lo posso riprendere. Quindi ci sono delle tempistiche, il Parlamento agisce in una maniera e un'altra. Io comunque come Presidente di Commissione non mi risulta di aver registrato, non so, voi che siete attenti osservatori, non mi pare che ci sia stata una singola protesta sul mio modo di gestire la Commissione. No, no, perché noi abbiamo, no, no, assolutamente no, lei è sempre stato corretto. Eh no, appunto, cioè essendo che non c'è stata una singola protesta sul mio modo di gestire la Commissione da parte delle opposizioni, è perché sono stato rispettoso delle opposizioni, continuerò a esserlo quando ci saranno delle opposizioni diverse e se ci saranno delle opposizioni diverse. Non avrete più di Commissione, il Comitato, il COVA se la andrà a voi, immagino. Quello, ripeto, non ho idea perché tanto le cose sono state al momento gestite in questo modo, quelle sono commissioni di controllo e quindi sono una cosa di controllo e garanzia, quindi sono un po' differenti rispetto alle commissioni permanenti, quindi non so, faranno delle loro valutazioni. La vorrebbe una piazza unita del centro-destra o comunque una migliore concertazione delle iniziative del centro-destra. Oggi abbiamo sentito Berlusconi, Fratelli Italia e La Lega dire cose simili ma diverse. Dubito che i cittadini per entrare in piazza o meno aspettino quello che gli dice Berlusconi. Io credo che se andranno avanti con questa farsa in piazza a Roma, sto già sentendo tanta gente che non è mai venuta a Pontida e vuole cominciare a venire prima a Pontida, comunque a Roma ci sarà una piazza di italiani che vogliono dire il mio voto conta. Insomma, adesso a parte tutto, sembra normale che un partito che ha perso tutte le elezioni, tutte, da cinque anni a questa parte, vada al governo con la maggior parte dei ministri o cose di questo tipo. Adesso mi rendo conto, so che è possibile in teoria. L'abbiamo visto tante volte nella storia parlamentarica. Sì, però di solito non ha mai portato particolarmente bene. Cioè, governi fatti contro la volontà popolare, seppur impeccabili dal punto di vista della regolarità o similari, una cosa è la regolarità formale, una cosa è sostanziale. Penso che in questo caso sia chiaro a tutti che è un'operazione contro la volontà degli italiani. Cioè, attenzione, quando noi eravamo al governo e Berlusconi era l'opposizione, ci rifacciava molte cose, come è giusto che fosse. Eravamo appunto due parti separate. In legge di bilancio qua in Parlamento, Forza Italia era l'opposizione. Quindi non siamo lo stesso partito. Ed è evidente che dal punto di vista parlamentare le strade si siano separate da tempo. Ci sono tuttavia delle alleanze che su base locale funzionano. Perché capite bene che avere una certa idea di, che ne so, politica estera o politica fiscale nazionale non è esattamente la stessa cosa di gestire una città o avere un'idea del decoro urbano o similari o dei rifiuti o così questo tipo. Da quel punto lì possiamo tranquillamente essere molto più in, per esempio, se vogliamo un certo modo di gestione dei rifiuti più efficiente, come succede al nord, potremmo avere dei seri problemi sul locale con i 5 stelle rispetto a quelle che invece avevamo sul piano nazionale. Quindi sono due sport diversi. Bene, grazie. Grazie a Claudio Borghi, Presidente della Commissione Bilancio della Camera.